Cara Matilde, opera della scrittrice Lorenza Rocco Carbone, sarà presentato domani, 23 marzo, presso il Palazzo della Cultura di Vallo della Lucania, organizzato dall'Inner Will e dal Rotary Club. L'autrice Battipagliese disegna un ritratto di Matilde Serau a 360 gradi. Antesignana come donna, scrittrice, giornalista, grande comunicatrice, organizzatrice culturale e fondatrice, assieme al marito Edoardo Scarfoglio, del giornale Il Mattino. La sua vita e i suoi racconti sconvolgono per il coraggio e l'attualità di un messaggio etico-civile a favore di Napoli, che lei, greca di nascita, amò e comprese nelle luci e nelle ombre, più di chiunque altro abbia governato la città partenopea e in genere il bel paese. Il libro è una riedizione integrata del volume che già tracciò un ritratto a tutto tondo della donna, della scrittrice e della giornalista Matilde Serau. Le opere, il ruolo di Antesignana del giornalismo moderno, il volto di Napoli visto attraverso i suoi occhi e la sua penna. Abbiamo l'onore e il piacere di ospitare Lorenza Rocco Carbone, una scrittrice e saggista della Campania, conosciuta per le sue pubblicazioni e le sue opere a livello nazionale. è stata premata anche al Salone Internazionale del Libro a Torino, ha partecipato esponendo e pubblicando i suoi libri presso le varie feltrinelli a Milano, a Roma, alla Casa di Dante. Infatti proprio questo libro che presenterà domani sera qui a Vallo, intitolato Cara Matilde, la Serau, verrà pubblicato il 12 aprile proprio alla Casa di Dante a Firenze. Quindi con orgoglio noi... Lo presentiamo prima nel Ciletto. Bravissima, bravissima, ecco, in anteprima. Questo libro è stato voluto fortemente dalla scrittrice che ha praticamente messo a nudo tutte le caratteristiche di Matilde Serau. C'è un legame anche con il Ciletto e con Vallo in modo particolare? Sì, allora, ne approfittiamo per sottolineare questa cosa. Praticamente Matilde Serau era la prozia di Antonio Lagloria, Maria Lagloria, quindi dalla famiglia Lagloria. E per questo, infatti, proprio domani sera il relatore di questo evento sarà proprio il professore Antonio Lagloria che ringraziamo anticipatamente. E ci sarà anche Maria, la quale racconterà degli aneddoti proprio che non sono riportati in nessun libro. Racconterà queste cose di vita quotidiana di questa prozia con la bisnonna. Quindi noi siamo, anche per questo, siamo onorati. Ritornando a Lorenza Rocco Carbone, la cittadinanza di Vallese abbiamo preparato proprio per riceverla un'adeguata manifestazione sperando di essere promotori più là anche di altre sue iniziative perché lei, oltre a questi libri, è una cultrice della scrittura creativa. Un invito in primis alle donne cilentane e poi a tutti insomma a raggiungervi domani presso l'Aula Consiliare. Sì, domani pomeriggio ore 18 presso l'Aula Consiliare ci saremo noi con l'autrice, con il professore Lagloria, Maria, Giussi Rinaldi che giustamente non poteva mancare in qualità di assessore alla cultura del Comune di Vallo dell'Eucano. E ci saranno anche, oltre alle autorità civili, inerine e rotariane, ci saranno i club di Battipaia, club di Città delle Rose di Pestum e ci sarà anche l'assessore alla cultura di Battipaia, Gabriella Pastorino Andria, che è anche un'innerina, quindi diciamo un evento tutto al femminile. Quindi vi aspettiamo e vi ringraziamo. Grazie.